Con 32 nuovi casi accertati nelle ultime ore sale a 2.245 il totale dei pazienti affetti da Covid-19 in Abruzzo. 8 i decessi più recenti che portano il bilancio delle vittime a 232. I nuovi casi sono emersi dalle analisi eseguite dal laboratorio della ASL di Pescara, centro di riferimento regionale per l'emergenza, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti, su un totale di 985 tamponi, il 3,2% dei campioni è risultato positivo. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 53, su un totale di 552 tamponi analizzati, 9,6%. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 232 morti. 345, meno 6 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 52, meno 2 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 1.403 più 30 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLE. Aumentano i guariti che sono 213 più 2 rispetto a ieri, 173 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 40 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 20.935 test. Del totale dei casi positivi 228 si riferiscono alla ASLE Avezzano-Sulmona-L'Aquila, più 8 rispetto a ieri, 469 alla ASLE Lanciano-Vastocchieti, più 4, 947 alla ASLE di Pescara, più 18 e 601 alla ASLE di Teramo, più 2.